sì è vero le mie barzellette so perfettamente che non fanno ridere ma io le recito per un motivo che in pochi forse nessuno ha capito è il mio personale sondaggio che ha un senso se io racconto barzellette che non fanno ridere e il mio adorato pubblico ride e acclama significa che io ce li ho tutti in mano e che quindi posso continuare a dire a fare a muovermi come mi piace di più come mi diverte il mio pubblico non accoglie non capisce il senso delle mie barzellette il mio scopo vero semplicemente io parlo e loro battono le mani io accenno vi ricordate la scenetta petroliniana e bravo eccetera io novello petrolini sono il padrone del mondo